Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo sempre qua in Assassin's Creed Valhalla, sempre nell'Ira dei Druidi, sempre qua in Irlanda. Oggi, come promesso, dobbiamo iniziare a fare le razzie, iniziare e finire le razzie, visto che sono 4 o 5. 1, 2, 3, 4 e 5, esattamente 5. Mi sono già portato qua, signori, iniziamo da questa, prenderemo tutto quello che c'è e poi procederemo a fare le altre. Iniziamo! Eccoci, signori, siamo in vista di questa fortezza, la prima del nostro viaggio di oggi. E iniziamo a razziare. Siamo parcheggiati proprio bene, eccoci qua, perfetto, andiamo, signori. Allora, cominciamo subito a segnare le cose che vogliamo prendere. Allora, quel tesorino qui, quindi quelle tre cose qua, per prime. Non c'è nessuno che ci accoglie, vi voglio s'aiutare. Voi trattela lì, tranquilli che io prendo le frecce e me ne salgo da qua. Non posso ucciderlo, volevo assassinarlo. No, Eivor, scendi dal palo, please, Eivor, dai, non cominciamo così, per favore. Sta arrivando Golia, ragazzi, stracattivo. Eh, ma era a venti, ma ragazzi, me la, me la in fondo al piazza. Ma addio. Te la do io allora adesso, bello. Si può contestare? Dai, panzola. Ciao. Ah, ok, una ricchezza se l'aveva lui, ottimo, perfetto. Ok, stracattivo Eivor, come sempre, come giusto che sia, facciamo un discorso del genere. Addio. Allora, eh, continuiamo con... 33 metri, dobbiamo salire, ragazzi. Allora, allora, allora. 15 metri in alto, ancora. 7 metri. Dentro qua. Bloccata. Devo andare dall'altra parte. Stano. Ah, guardate qua, ragazzi. Numero 3, abilità. E c'è un tesorino. Però non serve a nulla avere sfondato questa parete. Va bene. Ok, ragazzi, si entra da qua. Dopo due ore di tentativi. I miei soci hanno dato anche fuoco alla casa, nel mentre. Abbiamo preso tutto. Che l'ho palino. Bravo, Eivor, che ce l'hai fatta. Abbiamo i parabracci druidici, ragazzi. Ve li faccio vedere, così almeno anche voi capite. Allora, sono questi. Ok. Non sono bruttissimi, ma fa molto uomo delle caverne. Io preferisco i miei parabraccia di San Giorgio, ragazzi. Allora, qua ci siamo. Vediamo un secondo. Mancano quelle due cose qua dietro. Dietro di me, che sono là. Ok, vi rianimo tutti. Un secondo. Siamo in Battlefield. Perfetto. Vediamo dove sono le cose. 16 metri sono qua dentro. Yes. Qualcuno che mi dia una mano, vi ho ranimato in mille. Ok. Ok. Le scorte per l'avamposto ce le abbiamo. Facciamo quel tesorino qua e le due cose qua che mancano. Qua sotto il tesorino. Andiamo a dare un'occhiata. Vio. Ce ne usciamo. C'è qualcos'altro lì, no? Che magari devo tornare dopo. No. Perfetto. Ce ne andiamo. Andiamo a prendere le altre due cose che mancano, signori. E questa, la zia, è completa. Ok. Datemi una mano! Scorte per l'avamposto. Siamo a posto. Manca questo, signori. Questo. Il tesorino ti avrà presto. Ok. L'ha avuto prima te, a quanto pare. Qua si può aprire? Forza apertura. Ehi! Non posso farlo da solo. Please, give me a hand. Carina la vichinga. Mi dà ancora una mano, vichinghina. Per piacere che è sparita. Era qui adesso. È legato un tipo. Non posso farlo da vichinga, eh? Ora andiamocene da qui. Ottimo, signori. Razzia completata. Molto bene. Adesso. Proseguiamo con il nostro razziare. Andiamo qua. Che almeno prendiamo il baulino che si trova qui. Ok, signori. Siamo al nostro obiettivo. E razziamo. Facciamo una storia del genere. Prova a guidare te, guida. Ok, questo non so cosa sta colpendo da solo. Ah, cercano di colpire i miei soci. Allora. Ragazzi, è qua. Ottimo, signori. Altre scorte. Adesso. Qua siamo a posto. Ci manca la razzia qua in cima. Quindi ci rivediamo di qua, signori. Ok, signori. Siamo in vista del nostro prossimo obiettivo. E pronti a razziare. Razziare. Siamo arenati praticamente. Andiamo. Allora, come sempre. Prime cose da prendere. Uno. Quale tre cose qui? Allora. Prime cose abbiamo detto. 40 metri. 12 metri. Ah, ok, qua. Mi dia una mano, buon uomo, per favore. La ringrazio. Abbiamo le scorte, signori. Saldiamo. Allora, c'è qualcosa qui in chiesa. Forza serratura. Vediamo se mi dà una mano qualcuno. Sì, ho fatto forza. Vieni a darmi una mano qui. Ah, è tornata la carissima. Allora. Andato. Ehi, cosa mi tocchi la signorina vitinga. Bello. Allora. Vai, esci dalla finestra, bello. Vai, vai, esci da lì, esci da lì. No. Dai, fai l'attacco, Eivor. Please, fai l'attacco. Grazie, Eivor. Ok, prendiamo qui il prendibile. Prego, aiutami. Arriva un altro... Ok, le altre scorte le abbiamo. Undici metri. Qua cosa c'è? Qua. Molto bene. Vediamo ancora quelle cose qua, signori. Qua c'è qualcosa di blu. Lo prendiamo. Allora. Quarantotto. C'è qualcosa qua. Trentasette. Qualcuno che mi dia una mano. Là c'è un punto esclamativo. Qualcuno è rimasto ferito. Andiamo a aiutarlo. Adesso, immediately. Ok. Cosa fate? Tutti contro uno. Non vi vergognate. Mamma mia. Tu come... Eh, finisci malissimo. Bello, ma male. Mamma. Mamma mia. E via di calcio in faccia. Questo qua, invece... Cosa vuole? Ah, quello lì è il mio secondo. Che è un dio, anche lui. Tiriamo sul socio. Ok, proseguiamo. Quarantintisette metri più vicino, qui, nella casa. Eccolo. Ok, andiamo a prendere l'ultima cosa della razzia. Di questa, di questa razzia. Proprio qua. Ehi, vieni qui. Mi dia una mano, signore. Grazie. Com'è gentile. Ci ha visto il cattivo là dietro, però, eh. Con la fiamma ardente lo chiamavano. Ehi, amici, fiamma ardente. Ok, è andato. Bene, signori. Questa razzia è completata. Come vedete, adesso ci mancano quelle due razzie qua. Partiamo da questa e poi andiamo a fare questa. Ok, signori. Eccoci a 170 metri del prossimo obiettivo. E razziamo. Ah, ho finito l'effretto, ho finito l'effretto, ho finito l'effretto. Ok, easy. Vediamo già il forziere da qua. Ehi, vieni qui un attimo. Tanto che loro combattono. Me la dà una mano. C'è qua dietro un tipo che ci guarda abbastanza cattivo. Però le cose le abbiamo prese, eh. Ok. Ma dove sono i nemici, scusate. Vabbè. Va bene, anche qua abbiamo fatto. Signori, procediamo all'ultima razzia che è questa qui. Grazie. Gentile, no? Simpatico. Bene, signori. Eccoci alla nostra ultima razzia. E via. Allora. Mappa. Vediamo un secondo. Procediamo con queste cose qua. Per iniziare. Sempre simpatici i miei amici vichinghi. Ah, no, no. Più frecce. Ah, eccole qua. Volevo calpestare il tipo, ma non me l'ha fatto fare. Va bene. Se ci facessi l'attacco pesante. Ok. Ok, è andato il socio qua. Allora, 30-17 metri. Non capisco. Un di qua dentro, praticamente. Diamo un'occhiata. Spacchiamo la porra. Spacchiamo tutto. E qua deprediamo. Perfetto. Proseguiamo. Qua, signori. C'è dentro un bel tesorone. Dammi una mano. Qui. Felice. Carissima. Eccola. Me la dà una mano? Me la dà? La mano, me la dà. La mano. Grazie, com'è cordiale. Proseguiamo con... No, questo no. Con queste cose qua, signori. E poi vediamo se ci manca qualcosa. Sì, se mi dai una mano, mi dai una mano, ti dai una mossa, volevo dire, se la facciamo. Ok, 59-24. Andiamo sul 24. Eccola. Ti prego, aiutami. Please, help me. Ok. Precce qua dietro. Riprendiamo. Andiamo all'ultimo, che è a 45 metri, signori. Aspetta che li sistemo tutti. Questo, signori, è the last. Mi hai dato una mano? Devi darmi una mano qui. Quello là che cammina lesto, lesto, là sopra, signori. Ma mi scusi lei? Sta bene? Tutto a posto? La vedo un po' male, eh? È messo un po' male. Le do una mano io. Vediamo se si è ripreso, si è ripreso, si è ripreso, si è ripreso. No. Va bene. Bene, signori. Prendiamo anche questo tesorino qua, visto che l'ho segnato. Va bene. Si può tornare alla nave? Si può, no? Non si può. Vabbè, torniamoci a piedi. Bene, signori. Con questa immagine del villaggio, della razzia che abbiamo appena compiuto, che brucia le mie spalle. Io vi mostro che ho sbagliato tasto, naturalmente. Anche adesso ho sbagliato tasto. Vi mostro che anche nel Ulaid è tutto a posto. Abbiamo sia le ricchezze, che i misteri, che i manufatti. Nei prossimi video faremo i Dranger di Togstake. È un'altra missione secondaria, sempre dell'Irlanda, qui in Irlanda. E poi, per ultimo, completeremo il Met. Andando a prendere l'ultimo pezzo dell'armatura dei Druidi, penso. E facendo quell'altare qui. Quindi, mi raccomando, signori, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!